Mia figlia non è un assassino, per me qualcuno ha cercato di incastrarla. Signor Franco, il 20 gennaio arrestano sua figlia Barbara, che cosa succede nella sua vita? Beh, questo arresto di Barbara ha travolto la nostra vita, mia, di mia moglie, del bambino. Ero convinto che si stessero sbagliando, come sono convinto adesso che la Barbara non sia colpevole di tutto quello che dicono. Hanno arrestato una persona diversa da quella che conoscevo io. Barbara ha un carattere duro, se Barbara si mette in mente di fare una cosa, tira fuori unghie e denti e tutto per farla, però non potrebbe essere un'assassina. E poi la Barbara non ha il fisico per andare contro una persona che mi ha detto, ha presso poco, le mie dimensioni. Si è sempre pensato che in caso Barbara fosse responsabile della morte di Gigi Criscuolo, non possa aver fatto tutto da sola, ma possa aver avuto dei complici. E si pensa che uno dei complici potresti essere tu. Nel modo più assoluto no. Barbara non mi ha mai chiesto una cosa del genere. Non me l'avrebbe mai chiesto, perché sa benissimo che è contrario al mio modo di pensare e di agire. Se tua figlia ti avesse chiesto aiuto, tu l'avresti aiutata? Tata fornendogli un'assistenza legale, al limite l'assistenza di un prete, non sarei mai diventato complice di un uccidio. Prima di tutto perché è contrario al mio modo di pensare e di agire. Seconda cosa, se l'avessi fatto, avrei grabato l'opposizione di Barbara. Se non tua figlia chi? Per me qualcuno ha cercato di incastrarla. Perché? Per avere un riscontro economico. Perché se la Barbara avesse spedito questi documenti qui, i soldi sarebbero arrivati non a lei, ma a queste persone o a queste persone. Chi avrebbe potuto volere incastrare Barbara? Mi piacerebbe saperlo per potergli parlare. C'è una mamma in carcere, c'è un bambino che è senza la mamma a casa, c'è una famiglia distrutta. Sarebbe una cosa bellissima se qualcuno che sa tutto o in parte quello che è successo potesse contribuire andando alla polizia a raccontare quello che è successo. La verità. Se venisse fuori da queste indagini che tua figlia ha realmente ucciso Luigi Criscuolo, tu la perdoneresti? Come padre la perdonerei, ma prima dovrei spiegarmi molto bene perché l'ha fatto. Non posso cambiare la realtà dei fatti, se è colpevole deve pagare, limitatamente a quello che ha fatto.